Oh almeno parto da un angolo La cosa buona è quando parti da un angolo Che almeno Sono i jam buoni quelli sbloccati Ma sicuramente andranno al primo al centro E a quello lì Ma porca tre ma già visto Ma proprio qui dovevi passare te Ciao mods Buonasera benvenuto come stai? Tutto bene tu? Spacchiamo qui va Sono esattamente tutti dove sto Ehi salve Gli ho visti però voglio prendere più tempo possibile A difendere gli unici jam che vedo Quello non mi sembra che sia in uso E niente devo scendere qua Stronzi Ok Sono finiti quasi Aspetta What? Ok sono quasi finiti in corrupt intervention Eh hanno fatto il primo gen Erano in tre su quel gen Se Almeno in due Uno stalkerato tutto Poppi poppi Tutto mi tiene fermo così però Ok Il tre ce l'abbiamo Adesso sto solo a riuscire a prendere la gente Perfetto Sperando anche che gli scorgi mi spawnino bene Ma vedo se si incinta subito che raggiungi Esatto Rimani sul tre per sempre Quindi sono tutti sempre exposed Ok stavano in quello centrale Ora atteggiano No no Non ti preoccupare Possono tranquillamente recuperare Oh Ma porco dio Il 4% raga Cioè Cazzo è scam E non l'ha neanche E non l'ha neanche E' un rumore esatto Sì però Parliamone Il 4% Ogni game Me lo fanno Eh esatto Dipende da Netflix Anche Deadman Switch aiuta parecchio Con sto build Ho abiettato Attaccando apposta Correndo di lato In modo tale che tirasse giù Sto tirando giù Ogni singolo pallet esistente E gli ha finiti Perché non c'è rimasto attorno Era lì un pallet in realtà Però vabbè Nemmeno vi so fare dai teammate Mai guarda Proprio Scam come cosa I bolli blocchi? No Oh questa volta è andata bene Dain Myers 3 E' così buono Sto morendo di piacere Ha scavettato This is Dimmi che non l'ha vinto Il 4% Mi incazzo Ok minchia Stavo per incazzarmi Fortissimo Perché non vedevo l'altra Viettato Ho abitato giù il pallet Pensavo di sì Però non cambia molto Non dovrebbe arrivarci A meno che non è il The Dard E aspettiamo un secondo The Dard Chiaro Vabbè andiamo per l'altra A sto punto Dove intravvista qui Sarà in questa zona qui Ancora Non la vedo Però Andiamo ad appenderla Dai Vieni come fai Smadonare col meccanino Sì La mappa E' decente A sto giro Però E' il fattore mappa Che cambia tutta Dai Finisci pure nel basement Nel box Nel box Sei finito Nel box Poi abbiamo pure Littino nelle palle Vabbè ne devo un altro Nelle palle Che dire Tanto mo' Si lascia andare Non ti da blip Scusa che non ti da Non ti da bip Ah pip Dici I soldi Sì sì Non mi darà punti Anche perché Uno ha scavettato E gli altri si sono uccisi Sul gancio Quindi E una non l'ha neanche uccata Proprio prenderò Zero pip Però tanto sono già Al massimo di rank Quindi gioco per divertirmi Ma io scambino appunto Come se fosse un panel Di dietro Botolina Botolina Oh l'ho visto In Torino Non c'è No Shaq Giusto Voglio Looparla di qua Invece però Non voglio Che possa scappare Ma in realtà Sai che ti dico Fa culo Tanto non è Mindgammabile Quelle cose Non voglio Che si allontani Voglio trovarla Io la botola Oppure che si allontani La Shaq L'altra opzione Au Torni a Shaq Va bene Forse è il main building Ora come torna A Shaq Perché sa che Se la Se va in Shaq Non posso Seguirla E finché la tengo Bloccata più o meno In Shaq Non può Eccola qua E ora Sta solo Ritrovarla E' volato un corpo Potrebbe già essere Andata di qua Non è detto Che sia una forcheia Ragazzi Potrebbe sempre Riuscire a trovare Ad aprire la porta Senza che io la veda Dipende come sono Sponate Forse riesco a Vedere le entrambe Sì Oddio forse Qui non la vedo bene Ma qui si Che soddisfatto Adesso è tutto il paradiso Sì Vabbè Ma non ti vengo neanche a prendere Ma non c'ho voglia Guarda Come mi non sa Ah no Ha rotto l'hook Mi sa Ha rotto l'hook Sì La chiave Ah Dubito che c'è l'hub La chiave Andiamo a vedere Credo che sta solo facendo punti Distruggendo gli hook Vedi sì Sta distruggendo gli hook Sta solo facendo punti Ma lascia io non so per me andare Neanche a rarri Sciocadonto comunque muore Oh finito Oh finito Certo potrebbero farlo direzionare Il suono dell'ultimo sacrificato Almeno che vedi dov'è A me piacerebbe sapere Dove è morta Cioè neanche in cielo Si vede il coso Su google Mr. Stranger Finso Cosa Vabbè il problema è questo Non ho fatto chase Per il gioco Non ho fatto chase Perché il pissi Lo tirati giù In un secondo In un secondo Non ho fatto E' l'ultimo Grazie.